Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano. Oggi parliamo di Chrome e in particolare di come velocizzare Chrome. Vedremo questi brevi e veloci trucchi per tentare di avere Chrome sempre nelle condizioni migliori per navigare. Infatti Chrome è uno dei più apprezzati browser che ci sono sul mercato, tantissimi di noi lo utilizzano, e però a volte su computer lenti oppure su vecchie postazioni potrebbe un po' rallentare. E questi consigli dunque valgono per tutti, ma in particolare per coloro che vedono che la loro navigazione con Chrome diventa sempre un pochino più macchinosa. Prima di partire ti ricordo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina e questi sono tutti gli altri miei social. Forza, cominciamo immediatamente con questi brevi consigli su Chrome. La prima cosa che dobbiamo controllare è che sia correttamente aggiornato all'ultima versione. Ciò può essere fatto facilmente aprendo Chrome appunto e andando qui sui tre pallini, poi su impostazioni oppure Command-Control più virgola e guardate come qui in fondo c'è informazioni su Chrome. Qui vedete che sta verificando la disponibilità degli aggiornamenti e in effetti Chrome è aggiornato. Star dietro a queste sigle è davvero molto molto complesso, ma noi dobbiamo fare in modo di avere sempre Chrome aggiornato, in modo che tutte le nuove funzionalità e tutti i nuovi sistemi che vengono messi in uso siano correttamente installati. Altra cosa è le estensioni. Infatti molto spesso abbiamo parlato delle estensioni. Vedete, le estensioni sono questi piccoli programmini utili, ma che possono anche intasare la memoria del nostro browser. Se si desidera aumentare la velocità di Chrome, è consigliabile disinstallare le estensioni inutilizzate e invece magari lasciare soltanto quelle strettamente necessarie. Andiamo qui proprio sulle estensioni. Vedete come io ad esempio ne ho installate diverse. queste che hanno questa spunta blu vuol dire che sono pinnate e cioè sono messe in evidenza qui. Ma se andiamo sul menu gestisci estensioni, da qui possiamo rimuoverle nel caso in cui non le utilizziamo più, e quindi ad esempio io questa la rimuovo perché non la utilizzo più, oppure magari fare la prova se temporaneamente magari questa estensione sta intassando la memoria. Quindi la possiamo disabilitare soltanto cliccando questa parte qui. Un altro modo per velocizzare Chrome è quello di pulire i dati di navigazione. I dati di navigazione comprendono cronologia, cookie, cache e tutti i dati che vengono memorizzati quando si visitano alcuni siti web. Questi dati possono accumularsi nel tempo e possono intasare la memoria del nostro computer e del nostro browser. Quindi andiamo qui sempre sui tre pallini, andiamo su impostazioni e poi all'interno di privacy e sicurezza, guardate come qui c'è il fatto che possiamo cancellare i dati di navigazione. Quindi possiamo eliminare la cronologia, i cookie, le immagini e i file memorizzati temporaneamente. Come facciamo? Possiamo scegliere qui se togliere quelli dell'ultima ora, l'ultimo giorno, l'ultima settimana o addirittura dall'inizio della nostra navigazione. Ogni tanto possiamo provare a cancellare i dati di navigazione e vedere se il nostro browser in effetti è un pochino più veloce rispetto alla navigazione normale che abbiamo. Un'altra cosa che è un po' nascosta, rimaniamo sempre qui all'interno delle impostazioni, è l'accelerazione hardware. Un'altra opzione che possiamo impostare per velocizzare Chrome. L'accelerazione hardware è una funzione che utilizza la potenza delle GPU e quindi dei sistemi di calcolo grafici e si tratta di un'opzione che può essere attivata o disattivata nelle impostazioni di Chrome. Se il computer non è molto potente, l'attivazione di questa funzione potrebbe non velocizzare Chrome. Tuttavia, possiamo provarci. Come possiamo fare? Andiamo qui su Sistema e vedete come c'è l'usa accelerazione hardware quando disponibile. Quindi, se l'accelerazione hardware è disponibile all'interno del tuo computer, puoi utilizzarla tranquillamente per migliorare la tua navigazione. Ancora, vedete come io ho installato un tema, che è il tema di Lando Norris, che è un corrittore di Formula 1. Così, ne ho installato uno per fare la prova e vedete come poi tutte le bordature diventano di un certo colore, che richiamano il colore appunto dell'auto di Norris. Però, vediamo che questi temi, a forza di metterne dentro alcuni, alcuni sono molto elaborati da un punto di vista grafico, possono effettivamente rallentare la nostra navigazione. Allora, quello che vi consiglio è di impostare i temi di default di Chrome, che sono sicuramente molto meno complessi e quindi possono aiutare a caricare le pagine molto più facilmente. Come facciamo a impostare quello di default? Torniamo qui sui nostri tre pallini, andiamo su Impostazioni e poi su Aspetto. Vedete che qui c'è Aspetto. Vedete che io ho il tema Lando Norris con la McLaren Blue e posso però dirgli di ripristinare le impostazioni di default. E lo faccio. Vedete come ritorna il grigio Chrome, quindi un grigio molto, come dire, a volte anche un po' triste, che però ci può permettere di navigare nella migliore maniera. Benissimo. Io ti ho fatto vedere velocemente questi, tra virgolette, trucchetti per fare in modo che Chrome abbia la sua navigazione sempre più snella e aggiornata. Scrivimi qui nei commenti se già conoscevi tutte queste cose, se ne utilizzerai e quali di questi non conoscevi. Ora non mi resta che ricordarti di iscriverti al mio canale perché davvero a te non costa nulla per me è un grandissimo enorme favore. Ti lascio tutti i miei social qui in descrizione in modo che poi mi puoi raggiungere anche da altre parti, in particolare sul canale Telegram dove metto tantissime offerte a settimana. Ora non mi resta che curarti un buonissimo studio, un proficuo lavoro ed una vita splendida e ti ringrazio con il mio grazie grazie. Alla prossima.